Umberto Tozzi con Gloria e la Crystal History delle 8, sempre qui in diretta, sono le 8 e 08, Good Money Milano, in diretta su Crystal Radio, FM 96.2, da Plus, App, iOS, Android e sito internet. E allora, adesso andiamo avanti invece a parlare un po' di quello che succede nella nostra città, e voi mi chiedereste, ma che cosa hanno in comune Alessandra Custer, Manariete, Lodi, Emma Bonino, Flavia Pennetta, Giovanna Botteri, Laria Cucchi, Lara Boldrini, Liliana Segre, Michela Murgia, cos'hanno in comune? Sono le protagoniste, loro e tante altre, di una mostra chiamata Straordinarie, e per capirne meglio e sapere di cosa stiamo parlando, abbiamo in collegamento con noi Elena Lattuada, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Elena Lattuada, delegata del sindaco alle pari opportunità, che ci racconterà un attimino che cos'è questa Straordinarie, giusto? Questo è il nome di questa mostra, che però rientra in un progetto molto molto più ampio, giusto Elena? Assolutamente sì, partiamo dalla mostra, ovviamente che in questo momento è visitabile in forma gratuita per tutte le cittadine e i cittadini milanesi e ovviamente non solo. È una mostra di cui una piccola parte è stata già vista al Maxi a Roma e che invece è in Fabbrica del Vapore e si estende in tutta la sua straordinarietà, per l'appunto. Il titolo è Straordinarie, cioè parla di donne straordinarie, ognuno nel loro campo, ognuna per quello che rappresenta e per quello che è, che viene messa in mostra con una foto molto bella, in bianco e nero, proprio anche questo ha il suo dettaglio. E accanto alla mostra, che ovviamente è mostra immagini, c'è anche quello che queste donne straordinarie hanno voluto raccontare di sé, quindi è una mostra in qualche misura un po' interattiva, cioè è possibile ascoltare dei podcast che sono stati registrati in occasione, diciamo, della foto, dell'evento della foto e che racconta di queste donne. Quindi è un percorso tra mestieri, capacità, visibilità, appunto, alcuni nomi sono stati ricordati, ma ci sono anche donne meno famose che però hanno una storia da raccontare. Sì, perché c'è davvero tutto, nel senso c'è un mondo, tanti mondi anzi, raccontati all'interno di questa mostra. Come dicevi tu Elena, ci sono nomi più famosi, altri meno famosi, ma tutte nel loro sono straordinarie, appunto. Esattamente, questo è un po' il senso e aggiungerei, sono donne contemporanee, cioè di quest'epoca, però mi piace anche ricordare che questa città sta facendo un lavoro anche di recupero delle storie non contemporanee delle donne invisibili, cioè delle donne che hanno fatto grande questa città e che magari sono assolutamente poco conosciute. E se le straordinarie di oggi ci sono è anche frutto della storia precedente di altre donne straordinarie poco meno conosciute di quanto non possano essere quelle di oggi. Questa è una mostra proposta e curata da Terre des Hommes, che è una ONLUS che si occupa in modo particolare di bambini e di bambine, ma che ha voluto, insieme a degli sponsor, ovviamente, curare questa mostra e portare questa mostra nella nostra città per dare spazio e modo a tutti di mettere in evidenza, appunto, non solo delle immagini assolutamente meravigliose, ma proprio anche delle storie. E da questa idea straordinaria su cui stiamo lavorando da alcuni mesi è nata anche l'idea che Fabbrica del Vapore, il luogo dove si tiene, diventi un luogo importante per Milano per raccontare la storia di donne, più o meno note, più o meno recenti, con un'idea che Milano, città delle donne, per tutto il 2024 abbia Fabbrica del Vapore come un luogo in cui costruire, appunto, occasioni ed eventi. Che cos'è questo progetto Milano città delle donne? Perché è un progetto che è già in essere, sta andando e appunto avete già l'idea di fare tutto un 2024 poi, no? Sì, Milano città delle donne è, diciamo, la pagina istituzionale del comune di Milano che parla di tutto quello che accade in città rispetto alle donne e al dibattito, alla discussione, insomma, sul tema del genere, abbiamo deciso di usare questo slogan, insomma, questo logo per caratterizzare, appunto, Fabbrica del Vapore e insieme a chi gestisce Fabbrica del Vapore l'idea è quella di costruire un palinsesto che è in itinere, alcune cose sono già definite, ad esempio nel mese di giugno ci sarà un'altra mostra fotografica che si chiama Punto G, anche questa... Vuoi venire a contarcela, ovviamente anche quella vuoi venire... Anche di questa abbiamo visto una piccola pillola l'anno scorso alla Fornace, altro luogo, come dire, culturale di questa città, lì sarà sviluppata invece in modo significativo, questo è un altro evento già organizzato ma ce ne saranno tanti altri, ma vogliamo anche che Milano, città delle donne, sia, come dire, riconoscibile come un luogo in cui confrontare le esperienze e quindi stiamo pensando, appunto, di inserire in quel grande luogo che è Fabbrica del Vapore anche eventi, presentazioni di libri, occasioni di discussione, cioè di renderlo un luogo vivo, è un esperimento che facciamo nel 2024, se funziona non è detto che si possa anche continuare, però, appunto, con l'idea di associare un po' attività culturali, occasioni di incontro e di rendere sempre più viva e partecipata la città. Corigliana, tu sei la delegata sindaco alle pari opportunità, che cosa fa questa delegata sindaco? Qual è il tuo compito tutti i giorni quando, appunto, vai a lavorare, diciamo, no? Che cosa è che fai, qual è l'obiettivo, appunto, che si poi avete come giunta, come sindaco, come comune di Milano? Allora, il comune di Milano, cioè, diciamo, da ormai tre mandati, cioè da Pisapia in poi, ha deciso di non avere un assessore alle pari opportunità o al genere, cosa che in altre città invece accade, ma di avere una funzione, che è appunto la mia, quella che io in questo momento rivesto e che altre prima di me hanno rivestito nel corso del tempo, con l'idea che le pari opportunità debbano in qualche misura determinare le politiche di tutti gli assessori e di tutti gli assessorati, cioè quindi la delega del sindaco è in qualche modo un modo per interloquire, interagire con tutte le politiche del comune e provare, diciamo, con successo dipenderà non solo dalla capacità di chi ci prova, ma anche ovviamente dall'attenzione della giunta a, diciamo, costruire un coordinamento continuo e costante e a una lettura di genere di tutte le politiche che vengono fatte. Quindi un'idea di una sorta di delega trasversale, su cui in qualche modo si tirerà a un certo punto un bilancio per capire se effettivamente una modalità di lavoro di questo genere funziona o meno. Io posso dire che la collaborazione con tutti gli assessori e le assessore esiste e che le sensibilità in questa giunta esistono, vorrei ricordare che questa è una giunta formata da 50 e 50, 50 donne, 50, diciamo, 50% donne, 50% uomini, abbiamo una vice sindaca, quindi è chiaro che l'attenzione al genere è un'attenzione forte in questa città, del resto non potrebbe essere che così, in una città in cui, diciamo, i dati ci dicono che le donne sono importanti, la politica non può non tenerne conto. No, poi ci sono soprattutto dei dati che non è solo simbolo, perché se posso mentire, ma si dici, no, ma è un simbolo, non è solo quello. E ad esempio a me piace molto un'operazione che state facendo sulla toponomastica della città, che può sembrare una cosa stupida, dire, vabbè, ma chi se ne frega del nome della via, ma invece è fondamentale perché i nomi delle vie dedicate a donne sono davvero, davvero, infinitissimamente più di minori rispetto a quelle dedicate a degli uomini. E voi su quello state facendo, so, un'operazione anche per cercare, uno, di raccontare chi sono queste donne, a cui ci sono vie dedicate, e anche poi a cercare di portare il tema e dire, beh, quando però si fa una nuova intitolazione, intitoliamola magari a una donna. Perché è importante, non è solo simbolo questo? Beh, è importante perché, appunto, è un po' la cosa che dicevo all'inizio, cioè, dedicare una via significa anche riportare una storia, significa anche riportare all'attenzione, diciamo, ovviamente di chi vuole essere attento anche a questi segni, ma dare anche un riconoscimento, magari, appunto, a una donna che è sconosciuta e che pure nella sua capacità, nel suo fare, nel suo essere, ha segnato la storia, non solo la sua storia, ma anche la sua contemporaneità. E quindi questo percorso è proprio un'idea che se oggi questa città è appunto una città fatta di uomini e di donne, lo si deve anche a quelle donne sconosciute. Abbiamo costruito una sorta di mappa della città, non solo con le vie, vorremmo aumentare i monumenti dedicati alle donne, in questo momento, diciamo, i più importanti sono due, uno a Cristina Di Belgioioso, l'altro a Margherita H. Ma, come sempre, il problema dei monumenti sono i costi, che questo presuppone, quindi più facile, diciamo, una targa di intitolazione alla via, e però questo è un, come dire, un lavoro che con l'assessore alla cultura stiamo facendo con grande determinazione e convinzione, consapevoli che recuperare il gap tra uomini e donne è un lavoro di lunga lena, cioè non basterà questa consigliatura per risolvere il problema, perché se oggi siamo a 80-20 è evidente che il gap non lo si risolve velocemente, però, per esempio, ormai da diversi anni, ad ogni via intitolata o giardino o piazza intitolata un uomo, ce n'è una che viene intitolata subito dopo o subito prima ad una donna, e questo, diciamo, porta progressivamente ad un riequilibrio. Poi si potrebbe anche fare qualche, diciamo, sterzata ulteriore, ma, insomma, ci si sta lavorando, un lavoro in corso. Un bel quartiere solo di vie dedicate alle donne non sarebbe male, potrebbe pensare a un intero villaggio anche, no? Potrebbe pensare a qualcosa del genere. Il nodo è che, però, come sempre, le vie già intestate non si cambiano. No, non lo fate, che poi, se no, i cittadini vi abbassano proprio il genere. Esattamente, questo sarebbe un danno, e quindi, siccome questa città è vero che si sviluppa, ma è altrettanto vero che, insomma... Lo spazio è quello che è. Esatto, e quindi rivoluzionare da questo punto di vista è difficile. Stiamo cercando di fare anche un'operazione che, laddove è possibile, collocare, diciamo, l'intestazione di una via, di una piazza, di un giardino, nei luoghi dove, per esempio, le donne hanno vissuto. Adesso vorrei ricordare i giardini melato, che sono esattamente sotto la casa di Mariangela Melato, in zona Brera. Questo per fare un esempio. Quindi, anche questa politica dei giardini, delle passeggiate, che è proprio perché, per esempio, in centro di vie nuove non ce ne sono più, il rischio è di delegare solo nelle zone più, diciamo, limitrofe, periferiche, l'intitolazione alle donne. Allora abbiamo compensato con l'idea che anche, appunto, dei giardini, dei luoghi che stanno nel centro della città possono essere dedicate a donne. Poi c'è sempre il vincolo, ovviamente, che si possono intestare via i giardini solo dopo dieci anni dalla morte e questo, come dire, di donne ce ne sono tante da raccontare. Infatti, infatti, infatti. Allora le ricorderemo ancora, con Talena sicuramente, anche nei prossimi collegamenti. Ricordiamo, invece, a tutti quanti quando e dove la mostra straordinaria in scena, appunto, in questo momento. Allora, la mostra è già visitabile, è stata inaugurata il 14 di febbraio e dura fino al 17 di marzo, con un orario assolutamente allungato è possibile visitarla fino alle 8 di sera e quindi l'invito alle donne e agli uomini milanesi, e non solo, è quella di andare a visitarla, di prendersi un'ora del proprio tempo per non solo osservare i volti e leggere le biografie, ma anche per ascoltare le storie di queste donne straordinarie. E allora, ti ringrazio tantissimo davvero, Elena, per questo tuo collegamento e per tutto quello che state facendo. Ricordiamo anche, appunto, la collaborazione con Terre des Hommes proprio per questa mostra straordinaria, dal 14 febbraio al 17 marzo presso la fabbrica del Vapore. 110 storie da andare a scoprire, 110 storie di donne straordinarie. Grazie mille a Elena Natuada, delegata del Sindaco alle Pari Opportunità. Buona giornata. Buona giornata a voi. Grazie mille. Continuiamo con la musica, andiamo avanti. Ovviamente non possiamo che mettere una donna, dopo questo bellissimo discorso che abbiamo fatto, e quindi Rose Villain con Click Boom.